Ciao ragazzi! Sono sempre io, Omar, allevamento 70XN. È un po' che non mi faccio sentire, però andate tranquilli che Omar è sempre presente. Quando avete bisogno basta che scrivete e io se posso, giustamente, ovviamente vi rispondo e vi aiuto nei vostri dubbi. Volevo soltanto salutarvi, volevo soltanto dirvi che le vacanze si stanno avvicinando e quindi molti di voi saranno andati già in vacanza o qualcuno andrà. Io invece, ancora qualche giorno, sono in partenza verso il 9 di agosto. Comunque, in allevamento tutto ok, i soggetti sono a pieno regime con la muta. Adesso, momentaneamente, ho acceso la luce per fare il video. Calcolate che, allo stato attuale, i canarini sono in queste condizioni. Guardate, ecco qua. Queste sono le condizioni in cui stanno i canarini. Quindi, vedete, praticamente, non dico proprio il buio totale, ma sono in penombra. C'è una gabbia accesa, una spenta, una accesa, e poi abbiamo la finestra, che vedete qua sopra, che porta dentro un minimo di luce, ma proprio minima minima. Comunque, adesso aspettate che riaccendo. Ecco qua. Comunque, in allevamento tutto ok, come vi ho detto, canarini a pieno regime, in muta. Come vedete, temperatura in allevamento siamo intorno ai 25 gradi e mezzo, e umidità 61%. E qua ci sono tutti i canarini che stanno affrontando la muta. La potete vedere. Qua ci sono i bianchi. Eccoli qua. Potete vedere. E qui abbiamo i gialli. Qua abbiamo i gialli. Anche loro. La muta a pieno regime. Ecco. Tutto qua, ragazzi. Vi saluto. Vi auguro a chi è già andato, ha la fortuna di essere andato, chi no. Vi auguro... Guardate che bello questo. Forse non ve l'ho fatto mai vedere. Questo è fatto in ceramica, fatto in Sicilia. Vedete? Visto? E comunque, niente. Chi è già fortunato ad essere in vacanza, vi auguro buone vacanze. E ci sentiamo presto. Magari a fine muta, vediamo un po' i soggetti come sono. E iniziamo a prendere quelli destinati alle eventuali mostre. E in più, quelli che sono già destinati alle vendite di... A dei miei amici che mi avete scritto. Quelli che si sono già messi in lista. Si sono prenotati con i soggetti. E quindi vedremo da settembre in poi la disponibilità, il sesso e la consanguinità di tutti. A presto. Ciao ragazzi. Sempre in forma, mi raccomando. Ciao ciao.